Vai! Ah che roba! Ma il red è sparito un braccio, guardate! È sparito un braccio il gelataio! Carissimi amici, è arrivato PaninoTube! Oggi tornavo qua su Ice Cream 5 perché voglio fare una cosa molto molto bella e divertente con il nostro caro Rodino, con il nostro caro gelataio! Oggi voglio provare a metterlo dentro l'inceneritore della discarica e vediamo che cosa succede! Finalmente metteremo fuori uso il gelataio! Lo distruggeremo una volta per tutte! Ma come sempre siete qui sotto tantissimi like! Se il like che lascerete sarà pari la zona associata a voi sarà la centrale idroelettrica! Se invece la sarà dispari la zona associata a voi sarà la sala controllo! Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale zona siete associati! Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della PaninoFamily! Partiamo subito! Cominciamo, facciamo gioche! Direi, ma sì, possiamo pure fare normale! Tanto siamo sempre qua a giocare! Ormai su questo gioco stiamo diventando sempre più professionisti! Si parte, si comincia! E caro Roddino, caro Roddino! Questa è l'ultima volta che tu borbotterai! Sarà l'ultima volta! Perché presto ti metteremo dentro all'inceneritore! Ti bruciamo lì dentro! E vediamo che cosa succede! Vai! Vabbè, possiamo pure schippare il filmato! Tanto è sempre quello! C'è sempre qua Rod! Che continua a scendere dalle scale! A dire, tanto prima o poi diventeranno dei gelati! E prima o poi! Ma qui mi sa che... Sto poi si allontana sempre di più! No, perché qua scappiamo sempre! Cioè, caro Rodd! Scappiamo sempre qua all'interno di sto gioco! Quindi, mi sa che... Non ce la farei mai a trasformarmi in un gelato! Non diventerò mai un gelato di Rodd! Mai! Non ce la farà mai il nostro caro Roddino! Però, adesso dobbiamo fare una cosa! Dobbiamo salire qui sopra! Velocemente! Su, su, muoviti personaggio! Bravissimo! Su, su, muoviti qua! E ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Adesso! Andiamo di qua! Attiriamo la leva! Cioè, vuol dire attiviamo la leva! Su, muoviti! Qui però c'è il mini Rod! Il mini Rod ha fatto l'allarme! Quindi, presto verrà il nostro caro Roddino! E non approfittiamo per scendere! Cosa? Ma è già arrivato! È già arrivato! Rod, scendi! Veloce, veloce! Mamma mia! È già arrivato! È già arrivato! Aiuto! Mi sono perso! Mi sono perso! Non so dove sto andando! Apri qua la porta! Velocemente! No, 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 no! C'è il mini Rod! C'è il mini Rod! Via, via, via! Scappiamo, scappiamo! Dove sono? Dove sono? Non so neanche io dove sono finito! E sono tornato indietro! Sono tornato indietro! Adesso ce ne andiamo! Non so dove! Di qua! E devo ancora imparare sto posto! Aiuto! Aiuto! Mi perdo sempre qua! Ok, perfetto! Ho trovato il posto che mi serviva! Devo andare qua nella stanza del telefono! Ok, apri qua la porta! Ah, mamma mia! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Per fortuna Rod non è in grado di entrare qua dentro! Non può farlo! Anche perché noi ci siamo chiusi dentro! Ci siamo barricati! E lui non potrà mai aprire questa porta! Adesso però è il momento di chiamare Jay! E stavolta con Jay proviamo a fare questo esperimento! Però prima di diventare, anzi, prima di andare nella discarica! Voglio rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sotto i commenti! No, come ben sapete! A me piace pure rispondere alle vostre domande! Allora, questa ce la prendiamo perché l'electrogan ci servirà assolutamente! Adesso usciamo qui fuori! Ah no, aspettate, rientro un attimo perché dobbiamo partire qua dentro! Molti comunque pensano che la zona della sala macchine centrale idroelettrica si trova qui nel piano superiore Solo perché vedono Mike che entra nel tubo e poi scende di qua! In realtà, questa zona qua si trova da tutt'altra parte! Sì, è vero che Mike scende da qua! Ma il tubo che lui prende non si trova qui sopra per nulla! Anzi, si trova ancora più sotto di quello che noi pensiamo! Adesso vi faccio vedere tutto quanto! Velocemente ce ne andiamo di qua! Apri la bella forticina! Apri quest'altra forticina, personaggio! No, 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 no! Il mini-road, mini-road entra qua dentro! Velocemente, veloce, veloce, veloce! Ce ne andiamo qui sotto nella parte inferiore! Vi faccio vedere una cosa, no? Una volta che noi scendiamo di qua, andiamo sempre più giù! Apri la forticina, perfetto! Ce ne andiamo dritti da questo lato così evitiamo pure il mini-road! Ok, come possiamo vedere qua, la zona della centrale idroelettrica si trova qui! Dietro questa finestra, possiamo proprio notare da questo lato! Lì c'è, ad esempio, il frigorifero dove il rod ci chiude quando noi veniamo presi da Mike! Quindi, il tubo quello che prende Mike, quello verde per poi trovarsi nella sala sicurezza, si trova ancora più sotto! Qui sotto si trova il tubo verde che prende Mike! Poi, non lo so, ci sarà tipo un sistema di tubature che va su e giù, su e giù! E ci fa riportare Mike lì sopra! Si ritroverà lì sopra! E niente, questo qua era quello che volevo far vedere, visto che in tanti me l'hanno chiesto! Velocemente, ce ne andiamo di qua! Voglio pure provare a fare un altro bug, già che ci sono! Anzi, non lo proviamo a fare dopo! Dopo proviamo a fare quest'altro bug! No, no, perché per fare sta cosa, devo lasciare la... L'electrogun nella zona della centrale idroelettrica! E solo che adesso mi serve, non posso lasciarla! Ce ne andiamo di qua! Prendiamo il sacchetto! Ce ne voglio dire qua! Il trasporto dei rifiuti! Vediamo se il rod è passato a questo lato! Roddino! Siete qua caro gelataio? Ti prendo sacchetti in faccia! Ti lancio la spazzatura in faccia gelataio! Se provi a farti vedere! Se provi a farti vivo! Anche perché qua effettivamente ha fatto rumore quel mini rod! Quindi tecnicamente potrebbe pure comparire! Adesso siamo qua! Ciao mini roddino lavavetri! Ma che piacere! Il mio mini rod preferito! Nel video che abbiamo fatto prima! Nel video precedente abbiamo visto che questo mini rodd è praticamente indistruttibile! Cioè io posso lanciargli di tutto! Posso lanciargli quello che vuole! Ma tanto! Come ben sappiamo! Non succede nulla! Abbiamo pure provato a colpirlo con l'electrogun! E nonostante tutto è rimasto sempre vivo! Non si è fatto neanche mezzo danno! Neanche mezzo se l'è fatto! Già che ci sono faccio pure il minigioco! Così a caso! Velocemente! Lanciamo di qua! Così pian piano più vado avanti col minigioco! E più mi alleno a colpire meglio le finestre! Lancia di qua! Bravo Jay! Bravo quando fai le cose bene! Ok! Lancia di qua! Lanciamo di qua! Perfetto! Adesso cerchiamo di prendere qui lontano! Ce la farò mai a prendere quello! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Vai! Mamma mia! Mamma mia! Divento sempre più preciso a lanciare schi sacchetti! Vai mini rod! Vai che ce la puoi fare! Dai l'ultimo! L'ultimo! Ce la farò a prendere l'ultimo? Secondo me adesso l'ultimo non lo prendo! Sì! Sono riuscito a prenderlo! Sono riuscito! Ah ecco! Non lo trovavo più sto mini rod! Mi era sparito dalla visione! Vai vai mini roddino! Divertiti pure! Divertiti pure a pulire i vetri! Visto che è la cosa che più preferisci fare! Mamma mia! Mamma mia! Sto mini rod lava vetri! E che roba! E chi si sarebbe mai immaginato che il rod avesse pure un lavavetri personale? Chi se lo sarebbe mai immaginato? E adesso? No a me sto filmato fa veramente... Fa ridere! Fa anche tenerezza! Ma mi dispiace pure! Povero mini roddino! Povero mini roddino! Che brutta fine che ha fatto! No! È stato ispirato! Ma era necessario far tutto ciò solo per prendere un naso? Cioè insomma io potevo pure colpire un mini rod normale con l'electrocan! E strappargli il naso dalla faccia! No! Questo potevo farglielo tranquillamente! Vabbè! Adesso prepariamoci! Perché adesso siamo arrivati nella zona incriminata! Quella che ci serve! Siamo nella zona della discarica! Ma quella dove c'è il mini rod prototipo che porta la spazzatura dentro all'inceneritore! Ed eccoci qua arrivati! Chissà se il mini rod prototipo lo rincontreremo nelle prossime versioni! Chissà! Eccolo qua! Ci trova da questo lato! Dobbiamo attirare rodd! Quindi gelataio! Vieni! 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 Questo lato mi fa pure tenerezza perché questo fa soltanto d'allarme! Ma poi non fa nient'altro! Cioè non è che diteci colpisce! Eccolo qua! Rodd! 3, 2, 1! E sciottiamo! Vai! Vediamo se riusciamo a metterlo dentro! Portiamolo qua dentro! No! No no no! Dobbiamo cercare di spingerlo! Spingiamo il più possibile! Aspettate eh! È un po' difficile da fare la cosa! Non è per nulla facile! Vai qua! Vai qua! No! Peccato! Peccato che è difficile spostare rodd qua! Da ice cream 4 in poi! L'hanno reso difficile lo spostamento di rodd! Aspettate forse forse! Ok! Spingiamo di qua! Vediamo se si riesce a fare! Vediamo se riusciamo a bruciarlo! E mi sa che è troppo difficile! È troppo difficile! No! No! Rodd! Dai! Su! Muoviti qua ad andare qua dentro! Muoviti dai! Ok! Stiamo spostando la maschera lì sopra! Dai! Su su! Spingi spingi spingi! Dai che ce la facciamo! Dai che ce la facciamo! Mamma mia! Adesso rodd si sveglia! Dai! Sì! Abbiamo messo la maschera dentro l'inceneritore! Perfetto! No! Ma cosa? Ma si è trascinato con me! Ma perché? Ma perché è stato trascinato con me? Ma no! Ma l'avevo spostato in avanti! E mi conviene aspettare che si risvegli! Così lo proviamo a colpire! Perché si è allontanato effettivamente! Si è allontanato di tanto! Quindi ricarichiamo qua l'electro gun! E adesso preparati rodd! Alzati da lì! E tu state zitto! Basta fare in quel modo mini rodd! Basta fare in quel modo! Sei soltanto un prototipo! Però sei anche un prototipo tenero! Mi fa tenerezza! Mi fa comunque una leggera tenerezza! Su! Svegliati rodd! Svegliati dai! Quanto ci metti? 60 minuti! 60 secondi dovresti essere messo fuori uso! Io metterei anche delle tra... No! Le trappole no! Perché le trappole comunque me lo lanciano non so dove! Su! Vai! Roddino! Svegliati caro gelataio! Svegliati! Niente! Questo vuole farsi la pennichella! Vuole stare lì a dormire! Non si vuole svegliare il nostro caro gelataio! Alzati da lì! Mamma mia! Ma quanto ci metti? Ma peggio di escro in 4! Io pensavo che magari su escro in 5! Eccolo qua! Si è svegliato! Si è svegliato! Sciottiamolo! Perfetto! Adesso spingiamolo qua! Spingiamolo! Spingiamolo! No! No! Quanto pare impossibile portare Rodd lì dentro! Forse con le opportune mod! No! 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 Cosa! Rodd! Va bene che vuoi diventare spazzatura! Però mi sembra che così sia un po' esagerato! No! Vediamo se riusciamo a spingerlo! Così! Allora! No! 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 Così! Proviamo da dietro! Così! Perfetto! Da dietro! Da dietro a quanto pare si trascina meglio! Si! Si trascina meglio se mi cammino da dietro! Guardate! Allora! Da questo lato così! E soltanto che io da dietro non riesco a vedere bene! Non riesco a vedere! Vai Rodd! Entra qui dentro! Entra qua dentro! Se no sapete cosa faccio! Lo facciamo bruciare in questo modo! Gli diamo fuoco in questo modo! Guardate qua quanto gli sto mettendo! Quante trappole! Pure dentro l'inceneritore se entrate le trappole! Qua adesso si! Cioè veramente! Adesso c'è pure il fuoco dell'inceneritore che colpirà le trappole! Quindi direi che così può andare bene no? Potrà andare più che bene! E mini Roddino! E basta! E basta fare in questo! In questo modo! Datti una calmata! Datti una calmata! Devo dire che comunque questo mini Rodd prototipo è l'elemento più horror che c'è dentro sto gioco! Sarebbe stato bello se l'avessero approfondito! No! Ma dovevi stare fermo mini Rodd! Dovevi stare fermo! Ma dovevi rimettere tutte quante le trappole! Insomma! Insomma! E che roba! Pure i mini Rodd così che fa in questo modo! E dai! Erano per Rodd queste trappole! Non per lui! Non per lui! E mamma mia però! E mamma mia! Vediamo se adesso andrà bene in questo modo! Vediamo che cosa succederà! No! Veramente! Qua adesso prepariamoci ad un grande BOOM! Vai! Roddino caro! Svegliati! Sempre più pigro diventa sto gelataio! Sempre più pigro! Secondo me sui screen 6 sarà ancora più pigro! Lo vediamo direttamente dormire in un letto secondo me di sto passo! Lo vedremo dormire! Vai! Ah che roba! No! Spettacolare! Spettacolare! Guardate! Ma cosa? Ma il Rodd è sparito un braccio! Guardate! È sparito un braccio il gelataio! Ma che roba! Questo è ancora vivo! È ancora qui! Su su prendi questo! L'electrogan! Ma non va in tilt questo coso con l'electrogan! Cioè no veramente! Dovrebbe andare in tilt! Dovrebbe smettere di funzionare! E invece funziona ancora! Funziona ancora! Ma che roba! Spettacolare! Spettacolare! Ecco invece se noi apriamo questa porta Tornando al discorso che abbiamo fatto prima Effettivamente ci porta all'interno della centrale idroelettrica Ma è questa la porta che ci porta lì dentro! Rodd si è svegliato! Si è svegliato Rodd! Via via via! Scappiamo scappiamo scappiamo! Tanto ma ci sono le trappole! BAM! Cosa? Va bene! Direi di fare una cosa! Vi voglio far vedere anche l'altro bug che volevo farvi vedere! Ossia quello di lasciare l'electrogan nella zona di Mike! Dopodiché noi diventeremo Mike! E prenderemo in mano l'electrogan! Vediamo se è possibile fare sta cosa! Quindi velocemente! Ce ne entriamo qua dentro il condotto! Perfetto! Bravo personaggio! Beh devo dire che sono soddisfatto! Mi sarei aspettato magari qualche scena più bella Quando portiamo Rodd dentro l'ingeneritore! Però vabbè non ci lamentiamo! Ricarica qua! Ok! Senza cadere nel vuoto! Che cosa? No! Ho sbagliato! Aiuto! Non era questo il posto dove dovevo andare! Aspettate vediamo se posso... Su! Alzati! Alzati! Non posso... Vediamo se riesco ad uscire con le trappole! Va! Da questo angolo! Sì! Ok! Perfetto! Vai! Dritto! Sono rimasto bloccato! Sono rimasto bloccato! No! Ah ah ah! Ma che roba! Allora facciamo una cosa! Lanciamo qua l'electro... Electro gun! Che cosa? Che cosa? Niente! Niente! Devo rifare da capo perché mi sono buggato qui nell'angolo! Oh! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! E che roba! E che roba! Adesso dobbiamo scendere sotto! Io proprio nella stanza del telefono! Via via via! Ciao mini roddino! Me ne vado! Me ne vado! Dove sta già l'altra scala? No! Non è di qua! Non è di qua! Aiuto! E mamma mia però sti mini rodd! E mamma mia! Dai che ce la stiamo facendo! No! Seriamente! Tipo la terza volta che ho ripetuto quel bug! Non mi veniva! Non mi veniva! Non so che cosa gli hai preso al personaggio che rimaneva incastrato tra i muori! Adesso andiamo di qua! Perfetto! Questa! Possiamo dropparla di qua! Entra qua dentro! Adesso noi parlando il telefono! Cioè guardate cosa succede! Noi siamo Jay! Veniamo qua a parlare al telefono di Mike! Improvvisamente diventiamo Mike! E guardate cosa succede! C'è Jay! Si riteletrasporta lì dentro! Siamo di nuovo tornati qua dentro! Ma che roba! No! Adesso noi chiamando qua il telefono torniamo ad essere Mike! Siamo tornati Mike! Ma qui fuori guardate cosa c'è! C'è l'electrogan! L'electrogan che è l'arma dedicata a Jay! Quindi raccoglila! Perfetto! Guardate qua! Sono Mike con l'electrogan in mano! Andiamo qui sopra! Vediamo se possiamo utilizzarla! Rod! Senti qua! Senti qua caro Roddino! Ok sto facendo un po' di rumore per attirare il gelataio da queste parti! Vediamo se compare subito! Eccolo qua! È comparso! Vai qua! Prendi questo Rod! Prendi questo! Abbiamo colpito l'electrogan! Cioè abbiamo colpito Rod con l'electrogan! Siamo Mike! Spettacolare! Cioè guardate pure le trappole! Sono quelle di Mike! Sono quelle di Mike! Le trappole Mikeese! Magari più avanti potrei provare a fare un esperimento! Vedere che cosa succede se metto tante trappole di Mike! Sono veramente curioso! E quindi che dire per il momento! Direi di finire qua il video! Fatemi sapere cosa ne pensate! Spero che questo video sia piaciuto! Se vi piaciuto mi racconta spalliciate! Ascoltatevi e iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Noi ci vediamo al prossimo video! Come sempre vi auguro per giornata e per giornata e per giornata e per la notte! Ciao a tutti e buon panino a tutti!